E' tornato almeno per un giorno ad essere assoluto protagonista della vita rurale della regione, parliamo del Biroccio Marchigiano. Qui è stata dedicata una grande festa nei pressi di Arcevia. Vediamo. Per secoli ha rappresentato un punto di riferimento, uno strumento di lavoro, ma anche di comunicazione e di produzione del reddito. Parliamo del tradizionale Biroccio Marchigiano, al quale, pur mancando la tradizione artistica di quello siciliano, si deve riconoscere uguale dignità ed importanza nel panorama sociale di un'epoca che ha fortemente caratterizzato la cultura regionale. Così la manifestazione che si è tenuta al castello di Loretello di Arcevia è divenuta qualcosa di più di un momento di folclore e di ricordi. E' stato un momento che ha consentito ai giovani di riavvicinarsi alle proprie radici. Al centro della manifestazione è stato il Biroccio, la sua funzione, le caratteristiche tecniche e i tanti aspetti di tradizioni e cultura a cui si lega. La scelta di Loretello non è stata casuale. A parte le caratteristiche paesaggistiche come parco agrario storico, a Loretello è presente anche una piccola raccolta di attrezzature agricole legate al mondo della mezzadria. Così mostre di Birocci con il contributo essenziale del Museo del Biroccio di Filottrano, convegni, incontri, balli e feste popolari hanno caratterizzato una giornata intera con grande ed interessata partecipazione popolare.